Sono due le gare terminate nel VCO e nel Novarese, altre due si chiudono tra questa sera, venerdì e domani sera. Alla Verta di Omenia, nella gara in cui forniamo anche le immagini, hanno vinto sorpresa, ma con pieno merito, i portacolori dell'Ampi di Crusinallo, il non più giovanissimo Albino di Verio e l'eclettico rosso-nero Massimo Sancisi. Al secondo posto, dopo una canita finale, chiusasi sul filo del rasoio, si sono classificati il giovane Roberto Mazzolini e Mario Boscardin della bocciofila Possaccio. Di conseguenza, il terzo posto è andato ai ben più quotati e favoriti della Vigilia, Massimo Maioni e Massimo Callegari della Bottinelli di Vergiate, mentre la quarta piazza è stata a pannaggio del duo misto, composto da Claudia Lomazzi e Massimo Borgnis del Possaccio. A Doleggio Castello, invece, la finalissima è stata giocata da quattro giocatori della stessa società, la bocciofila Possaccio. Hanno vinto 12 a 10, ma perdevano 2 a 9 e hanno dovuto infilare una grande rimonta per farcela Renato Biancotto e Pierlauro Angelini, ai danni di Dario Mazzolini e Ugo Iossi. Al terzo posto si sono classificati Maurizio Ossola e Pierangelo Rodari della Crennese. Al quarto sono arrivati, invece, Giuseppe Balduccio e Gianpietro Boaretto della società di casa Loleggese. Domani sera chiude la piccola gara dell'Intrese, una sola serata per la categoria A, vinta da Lazzaro Molinari della Bologaro. E il giorno dopo, sabato, termina la ben più pregnante gara della Baragese, che ha selezionato con ben quattro serate le migliori coppie di categoria A del VCO, del Novarese, della vicina Lombardia. Sono in finale, ad esempio, Max Chiappella e Roberto Turuani dell'Alto Verbano. Quello stesso Chiappella, che ormai è cosa fatta, la prossima stagione, cioè dal primo ottobre, giocherà per la bocciofila Possaccio, società che ha iniziato anche una trattativa per accaparrarsi le prestazioni di Paolo Proserpio. Ultima conferma. In Coppa Italia, il VCO affronta il Comitato di Como verso la metà di giugno.